ciao a tutti benvenuti nella mia cucina diciamo piatto per te oggi castagne al forno e senza affumicarvi la casa per prima cosa andiamo ad incidere le castagne dal lato a lato sulla parte della pancia con l'aiuto di un coltello in questo modo le mettiamo in un pentolino e le copriamo con acqua fredda le mettiamo sul fuoco le facciamo bollire per cinque minuti pronte le castagne le sgoccioliamo e le mettiamo in una teglia perché vanno in forno le capovolgiamo a pancia in su e le andiamo ad infornare a 200 gradi per 20 25 minuti pronte le nostre castagne non ci resta che gustare le nostre castagne se le volete un po più morbide le andiamo a chiudere in un canovaccio per 10 minuti ma io non resisto le vado a mangiare subito ciao